Nell'esercizio delle sue funzioni e responsabilità il comandante ovviamente si avvale di un team di plancia, dopo aver quindi scelto e concordato la rotta da seguire in tutti i suoi dettagli, dà le direttive a questo team di plancia perché la navigazione venga condotta con la massima sicurezza. Il team è costituito ovviamente da un ufficiale il quale ha la responsabilità del comando di guardia in plancia e quindi non ci sono dubbi che quando lui è in plancia, a questo ufficiale la responsabilità viene ricondotta a lui, ma anche lui a sua volta si avvale del radarista, del navigatore e così via. Questo ufficiale, che ovviamente si alterna con i vari turni di guardia, resta comunque in plancia anche quando il comandante è presente. E questo perché? Perché il comandante può svolgere delle funzioni di semplice controllo in quel momento, o può decidere di salire in plancia perché c'è una situazione delicata alla quale lui vuole assistere controllando direttamente anche la condotta e il governo del personale di plancia perché tra l'altro tutta questa attività ovviamente comporta anche il dovere da parte del comandante e di esprimere un giudizio sul comportamento e la professionalità dei propri collaboratori. Quindi il comandante si sposta in tutte le zone della nave, ma in modo particolare si occupa in modo particolare della condotta della nave perché la condotta della nave è legata strettamente alla sicurezza del mezzo, del personale e al buon svolgimento della funzione. Tutto l'equipaggio partecipa a dei corsi che si chiamano corsi antincendio, corsi antifalla, corsi di sicurezza in generale e sono assoggettati continuamente a delle esercitazioni di sicurezza. Cioè in un momento qualunque della giornata e quando capita magari che uno ha passato tutta la notte in servizio di guardia e scatta l'esercitazione invece di andare a riposare o andarsi a fare una doccia e invece si cambia per così dire d'ambito, assume la posizione che i piani di sicurezza prevedono e dopodiché svolge l'esercitazione così è prevista. Forse non tutti sanno che a bordo c'è normalmente un medico, se la nave è molto piccola c'è un medico per più navi ma a bordo della nave c'è comunque un infermiere e laddove per un motivo qualunque l'infermiere o il medico non fosse disponibile nel caso di intervento chirurgico la responsabilità viene assunta dal comandante in seconda il quale sotto ovviamente la guida ma sono casi eccezionali ma questo per dire che nulla è lasciato al caso e che tutto è oggetto di una organizzazione molto dettagliata in cui ciascuno sa cosa deve fare, dove deve andare, quale tipo di assistenza deve prestare nelle diverse situazioni che come dicevano possono essere l'incendio, la falla, possono essere avarie al sistema di condotta nave, per esempio può succedere nel corso della navigazione un'apparicchiatura, è una cosa che rientra nell'assoluta normalità, che un'apparicchiatura vada in avaria, il timone, allora in automatico si deve sapere e il personale che è chiamato a reagire e a governare questa emergenza deve sapere dove deve andare, che cosa deve fare, quale sicurezza deve attivare, perché ovviamente la nave non può rimanere senza possibilità di governo. Su tutto ovviamente prevale il senso di responsabilità nei confronti delle persone che sono a bordo e soprattutto il senso di responsabilità e di solidarietà marinara, che è proprio tipica e fa parte, è elemento costitutivo della nostra formazione, della nostra etica, che ci impone di occuparci sempre di tutti coloro che sono intorno a noi e di non lasciarli mai in difficoltà e da soli.